Ciao ragazzi, ciao a tutti, un saluto da Calcio Toro, bentornati in questo nuovo video di YouTube. Post-partite di Torino Lecce è finita con il risultato di 3-1, una partita noiosissima, lenta, piatta. Si possono dire veramente tantissime cose su questa partita, utilizzare una miriade di aggettivi diversi. Io devo dire veramente che sono rimasto molto deluso perché sì, il risultato è arrivato, finalmente prima vittoria in stagione per il Toro di Marco Giampaolo, ma come è arrivato? Come è arrivato? Malissimo! Prima di incominciare però, come al solito, vi invito a scaricare OneFootball, ragazzi, la migliore applicazione per seguire il mondo del calcio a 360 gradi, news, video, contenuti social, 24 ore su 24, fantastica interfaccia, semplicissima da utilizzare. Ragazzi, non ce n'è, è la migliore e la potete scaricare gratuitamente dal link che trovate qua sotto in descrizione. Affrettatevi e fate un favore a me e ai ragazzi di OneFootball, che se lo meritano. Detto questo direi subito di partire con l'analisi della partita, dunque la formazione, ai nomi dei giocatori che sono entrati in campo per, insomma, i primi 45 minuti, parte dei restanti 45 e tempi supplementari. Ve la vado subito a leggere, è una formazione inusuale, non mi sparsi purtroppo. Liancon, Coulou, Milinkovic-Savic, Singo, Bonazzoli, Segre, Goyac, Linetti, Ansaldi, Murruverdi, un Ansaldi inedito nel ruolo di Mezzala. Un Goyac, che nonostante le parole di Marco Giampaolo viene schierato trequartista, e un Federico Bonazzoli a guidare l'attacco, accompagnato da Simone Verdi. Un Torino che con questo assetto tenta sempre di costruire dal basso, tenta sempre di giocare il pallone-palla-terra e di saltare la linea di pressing del Lecce, ma fallisce miseramente il più delle volte. Una cosa ridicola, e se davanti il Lecce non avesse giocatori alla Stepinski, per dire, secondo me avrebbe anche segnato più gol. Sarebbe riuscito a capitalizzare la maggior parte delle occasioni avute, che ne ha avute tante, tra l'altro. Io sono costretto a sottolineare questa cosa. Mi dispiace che in dipesa non si sia riuscito a mantenere un atteggiamento positivo come quello ottenuto contro il Sassuoro. Peraltro gol arrivato su un colpo di testa di Stepinski, che è libero di staccare in mezzo a Liancon, una roba ridicola, con cross di Mancosu precisissimo. Però, ragazzi, dai, ridicolo, si può dire che è ridicolo. Scusate se metto un po', insomma, le considerazioni sparse, eccetera, ma come al solito poi le proviamo a riordinare nel video del giorno dopo. Io qua vorrei solamente dire un paio di cose così giusto per lanciare due frecciatine, tipo a Simone Verdi, ragazzi. Poi torniamo sulla fase difensiva perché volevo chiudere il discorso dicendo anche un'altra cosa. Ma prima una parentesi su Simone Verdi, perché se è vero che Lecce davanti ha veramente dei giocatori scandalosi, almeno secondo me, caspita, non ha fatto una brutta partita nel complesso. Anzi, vorrei dire che secondo me, come seconda punta, si vede che è molto più a suo agio rispetto al ruolo di trequartista dietro le punte. E anzi, è grazie a lui che abbiamo vinto la partita, grazie al suo rigore, perfetto, tirato in maniera impeccabile, e al gol che ha chiuso i conti verso la fine del secondo tempo supplementare. Però è un giocatore che veramente di base, quando è davanti al portiere, quando deve concludere in una posizione vantaggiosa, sbaglia troppo. E anche oggi, occasioni di troppo sbagliate. Anche se c'è da dire che generalmente l'ho visto molto più abituato al ruolo di seconda punta rispetto al solito, e per me può essere una risorsa importante. Ci tenevo a dirlo questo. E spero di poterlo vedere migliorato, anche sotto un punto di vista realizzativo, dove veramente pecca molto come calciatore. Però per il resto, comunque abbastanza vivo, qualche pallone perso. Però ormai è il solito Verdi che ha i suoi difetti, ha i suoi pregi. Io spero possa animare i difetti, ecco. Però ci tenevo a fare questa chiusa su Verdi, prima di ritornare poi all'argomento capitolo difesa. Prima di tutto, Mezzali in fase di copertura totalmente inesistente. Certo è che quando vai a schierare dal primo minuto Linetti e Ansaldi, che sono due giocatori offensivi a livelli estremi, veramente, vai a perdere molto in fase di copertura. Infatti con l'ingresso di Meite, secondo me, si è riuscito molto di più ad arginare Lecce, piuttosto che prima con Ansaldi e Linetti. Mette che anche oggi ha ritmi bassissimi da Luma, che si è esaltato all'inverosimile, ma lasciamo stare questo particolare. In ogni caso, spesso in difesa si è rischiato perché le mezzali non accorciavano. In difesa veramente abbiamo le solite pecche sugli esterni, e chiaramente con Asia Pong che saliva in avanti abbiamo veramente rischiato tantissimo, soprattutto sulla sua fascia, ma anche sull'altra. E devo dire che Asia Pong per oltre 100 minuti è riuscito a mantenere una determinata intensità, a correre sulla fascia, a spingere come se non ci fosse un domani. I giocatori di questo calibro, con questa stamina, veramente ci mancano evidentemente, perché come al solito noi abbiamo dei cali fisici sorprendenti. Cioè abbiamo segnato il gol del pareggio con Lianco e da lì siamo spariti dal campo. Abbiamo recuperato la partita, l'abbiamo rimessa in sesto grazie a un rigore che sì, nettissimo, segnato da Verdi e poi siamo stati fortunati anche a segnare il gol del 3-1 su un calcio di punizione di un Lecce e comunque esausto, totalmente sbagliato, che ci ha permesso di ripartire in contropiede in 4-1 e anche là davanti al portiere, occasione totalmente sbagliata da parte di Simone Edera. Quindi sì, insomma, queste pecche vanno comunque sottolineate. A livello offensivo il Toro crea, ma manca sempre l'ultimo passaggio, manca sempre la giocata decisiva. Un altro esempio lampante è Singò, Singò che ha giocato un'ottima partita, è un treno, è un treno Singò sulla fascia destra, veramente siamo messi molto bene, spinge fisico, tecnico, ce le ha tutte. C'è stata una parte della partita, un'azione in particolare che mi ha stupito, dove lui riesce a dribblare, mandandosi la palla avanti, due difensori del Lecce, per poi sbagliare però il passaggio all'interno dell'area di rigore. E questa forse è una delle maggiori pecche di Singò. Sì, il telecronista l'ha esaltato per i suoi cross, io francamente vedo sempre dei cross abbastanza imprecisi, vedo passaggi finali imprecisi. È un giocatore che nella giocata finale, quella che conta veramente, deve un po' migliorare, però per il resto direi che ci siamo. Non si può dire lo stesso della fascia di Murru e Rodriguez. Pascia di Murru e Rodriguez che è veramente da mettersi le mani nei capelli. Cioè, è preoccupante, è preoccupante la situazione perché sono due giocatori che non danno alcun segnale positivo, veramente in difesa roba struggente, veramente penosi. Murru, sì, ha qualcosina, magari qualche lancio lungo, eccetera, però per il resto in fase offensiva è totalmente inesistente e quando presente totalmente errate le sue decisioni e quello che ha deciso di mettere in campo. Quindi, sì, le cose vengono interamente bilanciate, ecco, da una parte e dall'altra. Si è sentita l'assenza di Belotti, molto, probabilmente molto, però per il resto, ragazzi, che cos'altro abbiamo da commentare qua? Abbiamo da commentare Goiak. Goiak da trequartista ha fatto una brutta partita, oggettivamente, o comunque farraginosa ed evidentemente ora capisco perché Giampaolo lo volesse schierare mezzale inizialmente e non capisco perché l'ha schierato trequartista adesso considerando anche la disponibilità di Lukic, che, tra parentesi, è stato invece schierato nel ruolo di mezzala. Lukic ormai è una delle poche conferme, triste da dire, ma è una delle poche conferme di questo Torino, molto probabilmente un giocatore veramente duttile che sotto Giampaolo sta maturando molto rispetto all'anno precedente, dove comunque era risultato una risorsa di grande livello, quindi vediamo un po' come si sviluppa la questione. e per il resto niente ragazzi. Che altro c'è da commentare? Bonazzoli là davanti si è guadagnato il rigore del 2-1, per il resto veramente poco servito, però si vede che ha degli ottimi scatti in profondità, delle ottime intuizioni tattiche, velocissimo nel girarsi, è un giocatore su cui ripongo tante speranze, io comunque in ogni caso ci tengo a ribadirlo. Segre da play, ha fatto una partita migliore di quelle che Parincon solitamente, francamente, però anche la qualcosina di più me lo sarei aspettato da un giocatore con le sue qualità, però è stata una partita particolare veramente per tutti e io devo dire che sì, il Lecce non dico che ci ha surclassati, ripeto, non dico che ci ha messi i piedi in testa per tutti i 90-120 minuti, però ragazzi, veramente, il 4-3-1-2 del Lecce è stato efficace, è stato efficace, le mezzali hanno fatto quello che dovevano fare al 100%, giocavano con massimo 2-3 tocchi, saltavano subito la nostra pressione e tra l'altro quando arrivavano nella nostra area di rigore, complici anche a un centrocampo a trazione offensiva a livelli estremi, si trovava semplicemente Segre in fase di copertura, tra l'altro spesso richiamato da Giampaolo, è uno spazio enorme, una prateria in mezzo al campo per andare avanti, arrivare al limite dell'area di rigore. I pericoli maggiori sono arrivati dalle fasce, dove comunque il Lecce ha avuto molta opportunità di cross, anche per vie centrali, però si è rischiato molto, soprattutto in contropiede, dove sì, il Toro non solo non riusciva a sfruttare le occasioni offensive, ma poi da calcio piazzato, eccetera, da errori di questo tipo, si generavano dei contropiedi, in cui il Lecce si trovava in situazioni di 3-2, 2-1, 3-1, cioè, questa cosa va cambiata, ecco, va cambiata, poi purtroppo, ripeto, secondo me, siccome sono molto più scarsi tecnicamente, alla fine, cioè purtroppo, siccome sono molto più scarsi tecnicamente, alla fine è venuta fuori la squadra più forte, e abbiamo vinto per questo, però francamente, sì, grande tirata d'orecchie, ecco, mi è piaciuto molto Anderson, del Lecce, Mancosu, il solito giocatore imprescindibile, difesa così e così, onestamente, anche perché, anche se abbiamo avuto veramente, non troppissime occasioni, ecco, almeno non mi vengono in mente così, su due piedi, Stepinski in avanti, secondo me, Lecce è un grande problema, perché ci sono avuto veramente, moltissime occasioni, che potevano essere, capitalizzate molto meglio, in generale, Lecce ha giocato una, ha fatto una prestazione migliore, il risultato non è arrivato, ma potrebbero anche uscirne, maggiormente contenti rispetto a noi, e infatti, mister Giampaolo, a fine dei cento di minuti, scuote la testa, fanno con la testa, e si presentano, gli stessi limiti, che abbiamo visto, contro, le prime tre squadre, con cui abbiamo giocato, nel campionato di Serie A, non è stata confermata, l'ottima prestazione di Reggio Emilia, e le seconde linee, come al solito, si confermano, così così, inadatte al contesto, senza contare il fatto, che non giudico neanche, Simone Edera, dietro le punte, ovviamente per necessità, perché sennò, io non penso che lo schiererebbe, Simone Edera, dietro le punte, roba imbarazzante, tra l'altro, in un contropiede, 4 contro 1, da solo davanti al portiere, è riuscito a sbagliare il tiro, quindi, vabbè, l'abbiamo visto poco, ma io, penso che uno come Edera, non deve proprio rientrare più, nel progetto del Toro, niente, fatemi sapere voi, che cosa ne pensate, di questo match, io vi ho detto la mia, come al solito, mi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace, condividere il video, seguirmi su Instagram, che io c'ho la calciotoro, là, ci sono aggiornamenti costanti, o almeno cerco di metterli, quando posso, quando ho tempo, e ci vediamo al prossimo video, alla prossima opinione sul Toro, ciao ragazzi! Grazie. Grazie. Grazie.